Buongiorno, il video presenterà gli step principali utili a sviluppare un sistema di misura collegato a PC, a partire dallo schematico fino alla realizzazione su PCB. Il sistema è composto da un'interfaccia microcontrollore atto a inviare al PC, mediante USB, i dati letti dal sensore. Le specifiche che dovrà soddisfare il sistema di misura progettato sono le seguenti. In particolare dovrà comprendere tutti i blocchi necessari ad acquisire i dati dal sensore per poi trasferirli al PC. L'intero sistema inoltre dovrà essere alimentato unicamente dal PC, mediante il cavo USB. Per prima cosa occorre creare il simbolo del sensore che si utilizzerà, se non presente in libreria. A tal proposito creiamo una nuova libreria, inseriamo un nuovo oggetto chiamato MPX5100. Nella finestra che si apre disegniamo il simbolo e inseriamo i pin di interesse, come ad esempio l'uscita analogica, definita Vout e i pin di alimentazione, ricordando che il tipo di quest'ultimo deve essere Power. Terminato il disegno otterremo il seguente risultato. Un procedimento analogo verrà seguito per la creazione del simbolo del microcontrollore. A questo punto creiamo il progetto dell'intero sistema. Verrà adottata la strategia della struttura gerarchica, che permette di dividere l'intero schema in sottoblocchi, al fino di ottenere una progettazione modulare. Partiamo dalla parte relativa al sensore. Aggiungiamo la libreria creata nello step precedente, cliccando sull'apposito pulsante. Di conseguenza inseriamo il sensore. Aggiungiamo poi ogni altro componente utile, quali condensatori di disaccoppiamento ed eventuali filtri. Ogni nuovo oggetto è inserito facendo doppio clic sul relativo nome della lista. Cliccando il tasto R è possibile ruotare l'oggetto. Il circuito RC è utile a filtrare ogni rumore con frequenza superiore alla massima banda del sensore. Questo rappresenta infatti il filtro di anti-aliasing per la DC del microcontrollore. Aggiungiamo infine le porte del blocco, nominandoli in maniera significativa, per poterle facilmente riconoscere a livello superiore. Esse verranno infatti utilizzati per i collegamenti al top level. Finito il piazzamento si procede a connettere le varie parti. Lo stesso procedimento viene utilizzato per lo schematico del microcontrollore, in cui saranno presenti i collegamenti lato USB e lato sensore. Ogni altro componente presente è suggerito dallo schematico della scheda Arduino, come ad esempio i quarzi, i LED o il pulsante di reset. Molto importante è l'utilizzo del Netalias, che permette di nominare in modo univoco collegamenti che fanno capo allo stesso segnale, evitando quindi lunghe connessioni. A questo punto aggiungiamo un nuovo schematico al top level, che conterrà entrambi i sottolivelli appena creati. Essendo una struttura gerarchica, il nuovo schema, che chiameremo System, dovrà essere imposto come root, altrimenti non verranno riconosciuti i sottoblocchi. Nella pagina di disegno aggiungiamo due blocchi gerarchici, riferiti l'uno al sensore e l'altro al microcontroller. A tal proposito utilizziamo l'apposito pulsante e i suggerimenti che appaiono nella finestra dedicata. I sottoblocchi sono rappresentati da rettangoli che possono essere modellati a piacimento. Le porte sono utili al collegamento dei vari elementi, cui si aggiunge la USB. Terminato il disegno, si devono effettuare alcuni passaggi di processo, quali l'annotate, che permette di nominare le diverse istanze, il DRC, con il quale si controlla la presenza di eventuali errori di progetto. I due warning presenti avvertono che alcuni pin non sono connessi, ma non sono di interesse. Per ultimo il bill of material, il quale genera la lista di componenti utilizzati per la fabbricazione. A questo punto lo schema è finito e si può procedere alla progettazione del PCB. Per iniziare occorre a creare i footprint mancanti per alcuni simboli, come quello del sensore di pressione. A tal proposito si utilizzerà la procedura guidata, con la quale è possibile creare il layout del componente inserendo solamente alcuni parametri importanti per la realizzazione, come le dimensioni, il numero di pin e la topologia di quest'ultimi. A questo punto occorre assegnare il footprint appena creato al simbolo del sensore, editando le proprietà ORCAD di quest'ultimo. Per il sensore occorre definire un ulteriore parametro, NC, che permette di istruire il tool della presenza di pin e il package che non sono rappresentati nel simbolo. Siamo ora in grado di generare la netlist e quindi procedere alla creazione del PCB. Piazziamo sul nostro foglio di lavoro i vari componenti, delimitandoli con la dimensione attesa della scheda. Nella finestra di piazzamento compare la lista completa dei componenti da aggiungere. Ogni nuovo componente aggiunto evidenzia i collegamenti che lo caratterizzano, facilitando il successivo lavoro di routing. Il bordo scheda viene aggiunto disegnando un rettangolo che abbia le proprietà di board geometry selezionabili nella scheda option. oltre al bordo fisico occorre delimitare anche il limite esterno del package e delle piste, utilizzando questa volta il comando Z-copy. I due nuovi limiti dovranno avere rispettivamente le proprietà package keeping e route keeping. Possiamo ora procedere con il routing, inserendo le piste e impiegando dove necessario i via per accedere al layout secondario e superare l'ostacolo. Durante tutta la procedura di routing il DRC è sempre attivo, rappresentato dal rettangolo in basso a destra. Qualora esso fosse rosso si interviene immediatamente correggendo l'errore. Per iniziare una nuova pista è possibile cliccare il tasto F3, mentre per creare un via è sufficiente fare un doppio clip col mouse. Giunti al termine possiamo ora definire il piano di massa, creando un'area di rame e assegnando la segnale di riferimento. A tal proposito viene creata una metallizzazione Hatch, utilizzando nuovamente il comando Z-copy. Una volta creata è possibile modificare le opzioni in modo da assegnarle al segnale desiderato. Modificando alcune proprietà è possibile far sì che la metallizzazione circondi i pad. Ultimo step è la creazione dei Gerber file, utilizzati in ambito industriale come standard per la fabbricazione. Essi si compongono delle metallizzazioni di ogni layer e dei vari drill. Il risultato dell'artwork è quello visibile. Per il bottom layer e per il top layer. Il progetto è giunto al termine, grazie per l'attenzione. Per l'attenzione, grazie per l'attenzione, grazie per l'attenzione.